Tanti turisti ma anche tanta la gente del posto che camminando per i viottoli di Cerete Alto ha vissuto scene di inizio novecento ricostruite in occasione della manifestazione Cortili Aperti. L'iniziativa che è organizzata dall'Unione Sportiva Turistico-Culturale ha visto la presenza di migliaia di visitatori tra venerdì sera e domenica a dimostrazione di un successo che si riconferma di anno in anno. Attraverso il percorso predisposto dagli organizzatori che partendo dalla Casa Museo dove si trovavano esposti in bella mostra registri catastali e fotografie di un tempo passando per la Cà di Pape fino alla Locanda da Rusì dove salumi formaggi tipici e perché no un buon bicchiere di vino hanno accompagnato con il sottofondo musicale di suonatori d'altri tempi i tanti a passeggio per le viuzze del paese. Sono nati tutti qua nove figli e dopo vivevano da contadini qui facevano il formaggio e dopo era la cucina le donne del cortine fanno vedere a fare la lana per fare i maglioni e l'altra per fare la lana per fare i materassi e gli altri berette, maglioni, quella roba lì. Soddisfatta l'amministrazione comunale che per voce del vice sindaco non nasconde l'augurio di estendere la manifestazione anche nella parte bassa della località abbattendo i tanti contrasti che hanno accompagnato in questi anni le due realtà. È una cosa che stiamo cercando di lavorare come amministrazione, stiamo proprio cercando di far dialogare le due entità di Cerete e qualcosa è stato fatto in questi termini. Proprio sabato tra l'altro è stata fatta una camminata con gusto, non ha visto una numerosissima partecipazione probabilmente perché è mancata forse la comunicazione corretta però il percorso è quello giusto, quello di consentire alla gente di visitare tutte e due le località di Cerete perché sono entrambe ricche di storia, di cultura e di arte. I cortili aperti sono ancora numerosi e speriamo di riuscire ancora a mantenerli così come sono in modo da consentire alla gente che viene qui e ha l'occasione di venire qui a Cerete di poterli gustare ancora nella loro piena autenticità.